Saludate Gesù, per darvi il saluto della giornata che è per me tra me, al termine. La vita è un dono di Dio e dobbiamo vivere ogni giorno con gratitudine e gioia, anche nelle difficoltà. La vita è breve e non dobbiamo spiegarla in cose superficiali, dobbiamo concentrarci sulle cose che hanno un valore eterno. La vita è un viaggio verso Dio e ogni passo che facciamo sulla terra dovrebbe essere passo verso la santità. La vita è un dono che dobbiamo custodire e rispettare, dobbiamo prendere cura del nostro corpo, della nostra mente e della nostra anima. La vita è un viaggio verso la felicità eterna con Dio, dobbiamo vivere con speranza e fiducia nel suo amore misericordioso. La vita è piena di prove e tribolazioni, ma non dobbiamo temere perché Dio è con noi in ogni momento. La vita è un viaggio verso la felicità e fiducia nel suo amore.